Ciao a tutti ragazzi, eh sì, prima di iniziare il video sottolineiamo il fatto che è arrivato Vlaovic, è arrivato Vlaovic e quindi è arrivato, diciamo che sembro Draco Malfoi, sembro Giorginio, sembro tante persone un po' particolari, ma cercate di ascoltare più che guardare, faccio così, così sembra una persona normale, scherzi a parte, sapete tutti il perché di questa cosa, sono stato ben lieto di farlo, ho sempre sognato di farmi biondo, sono sempre stato curioso di capire come potessi essere biondo, non immaginavo così tanto biondo, è venuta fuori questa cosa qua e quindi va bene, pensavo comunque molto peggio, in realtà sono anche abbastanza soddisfatto del risultato. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un paio di cose che abbiamo lasciato fuori ieri, cioè conferenza stampa di Zaccaria e un paio di cose che inizieremo ad avere più chiare già da domani, perché ragazzi, non so se vi ricordate, ma si gioca anche a calcio, non c'è solo il calcio mercato, ci sono anche le partite, si va in campo, si fanno cose, quindi tra poco si giocherà. Come sempre un mi piace a questo video, il primo video in cui sono biondo, quindi direi che questo mi piace va lasciato il primo possibile, in seconda battuta OneFootball, il link per scaricarlo qui sotto in descrizione, oppure inquadrate il QR code con la fotocamera del vostro smartphone, proprio per capire che cosa sta succedendo alla Juve, chi sarà a disposizione di Allegri per la partita di domenica, chi no, chi è infortunato, chi è squalificato, chi ha il covid, chi non gioca, chi va in panchina, chi è rientrato alla nazionale, oggi facciamo un giro generale, un riassuntino generale sui calciatori, poi però su OneFootball giornata dopo giornata, ora dopo ora, arriveranno informazioni più dettagliate, poi domani Allegri farà anche la conferenza stampa. Zaccaria, ho sentito che anche il balza è andato su questo punto, io ieri ho ascoltato Zaccaria parlare quando sono rientrato a casa dal parrucchiere, perché ci sono stato una marea di tempo e mentre svuotavo la lavastoviglia ascoltavo la conferenza stampa di Zaccaria e devo dire la verità, anch'io sono rimasto stupito dalla domanda che ti è stata fatta a proposito del è una tappa intermedia della tua carriera, la Juventus o no? e la sua risposta mi ha lasciato un po' così, già la domanda era un po' così ed è ovvio che se tu non hai in testa il fatto che potesse essere una domanda maliziosa, allora fai anche un po' fatica a dare una risposta adeguata, non so cosa intendesse Zaccaria, io l'ho intesa come sono un giocatore che vuole diventare sempre più forte e quindi il fatto di arrivare alla Juve non è un punto d'arrivo, bensì un punto di fine, bensì un punto di inizio per cercare di migliorarmi sempre di più, però ci sta anche intenderla nell'altro modo e cioè io sono arrivato qui alla Juve ma non è che starò qui alla Juve tutta la vita perché magari ci saranno altre scelte, strade in futuro da prendere, questa è una roba che si lascia aperta ovviamente, poi io lo dico tranquillamente, è vero che con questo mercato invernale abbiamo rinforzato la squadra ma fino a due settimane fa ragazzi dicevamo giustamente ma chi ce lo fa fare di venire a giocare alla Juve, chi ce lo fa fare di venire all'allenare la Juve, ci sono tanti problemi, è una situazione difficile e bisognerà metterci tanto per risalire ed è quello che vi ho sempre detto, non è che con questi due acquisti adesso abbiamo sistemato tutti i problemi che avevamo, no non è vero, li abbiamo migliorati abbiamo migliorato determinate posizioni, determinate situazioni ma non è tutto completo non è tutto finito, ora non è che vinciamo la Champions, non è che vinciamo il campionato è di mezzo al campo come sempre e sul campo serviranno appunto Zaccaria e Vlaovic per cercare di migliorare questa situazione che ad oggi non ci va assolutamente a genio quindi questa è un po' la conferenza stampa di Zaccaria, scusate se non è dettagliata come quella di Vlaovic però a me ci sono state poche cose davvero rilevanti a parte il fatto che anche qui come per Rocatelli c'era la nonna, c'è il papà di Zaccaria che tifava Juventus, era la sua squadra preferita quindi un po' di cose, sì solite cose, sempre sognato di venire qui, grande squadra, mi sono trovato bene con i compagni, nell'attore nei primi giorni, secondo me c'è poco di ciccia grossa nella conferenza di Zaccaria quindi cerco di andare avanti, infatti ieri sera non sono stato a fare un video sulla conferenza stampa di Zaccaria perché sapete bene che quando metto qua voglio avere qualcosa da dire e avete visto sul mercato c'era una marea di robe da dire, ero sempre qui, ora che si è un po' calmata le acque finché non si gioca direi che parliamo quando ce n'è bisogno, io mi sono fatto però un blocco note per cercare di capire un pochino la rosa della Juventus nel dettaglio, allora vabbè, Cesni, Perini e Pinsoglio ci sono, stiamo parlando della partita di domenica con Lella Sverona, dovrebbe giocare Cesni, Perini e Pinsoglio sono bene o male le due riserve, blocco dei difensori, De Sciglio, Chiellini, De Litt, Bonucci, Danilo, Quadrado, Pellegrini e Rugani, Bonucci l'ho scritto due volte, non so bene perché, forse li voglio molto bene. Allora, Bonucci e Danilo, erano i due che avevano qualche problema fisico e che erano da rivedere, da capire, Danilo ha pure giocato in Coppa Italia, però capite che un conto è giocare la Coppa Italia contro una Samp davvero disintegrata, un conto è giocare una partita di campionato contro una squadra molto intensa anche come Lella Sverona, quindi immagino, penso che su Danilo si avrà un occhio di riguardo. Bonucci potrebbe essere un po' più pronto, eventualmente se non gioca Bonucci c'è Chiellini. Poi c'è Alessandro che anche lui ufficialmente ha il Covid, quindi non dovrebbe essere a disposizione per questa partita, vediamo invece per giovedì, che giochiamo in Coppa Italia contro il Sassuolo, se riusciremo a recuperare almeno lui. Quindi a disposizione, secondo me, a pieno regime, De Sciglio, Chiellini, De Litt, Bonucci, Pellegrini e Rugani. Non dico anche Quadrado perché, perché Quadrado era uno di quelli convocati in nazionale, dovrebbe essere rientrato, perché ormai ha giocato tante ore fa, tra l'altro ha giocato contro Di Bala, ha perso una 0 gol di Lautaro Martinez. Dovrebbe rientrare in Italia, secondo me Quadrado è uno di quelli che sarà a pieno regime, però il beneficio del dubbio, anche su quelli che sono andati in nazionale, lo lasciamo. E questo è il discorso legato ai difensori. Centrocampo, attenzione che il centrocampo è un po' particolare come situazione, perché abbiamo Artur, McKennie, Rabiot, Locatelli e Zaccarini. Abbiamo 5 in questo momento a centrocampo. Artur ok. McKennie, ecco McKennie è un problema, McKennie è un problema perché ha giocato stanotte praticamente in nazionale, quindi arriverà all'ultimo. Voi capite bene che, è logico, alcuni giocatori hanno giocato, arrivano, potrebbero giocare, non è una situazione come quella del Napoli, non so se vi ricordate quando erano arrivati proprio all'ultimo e quindi il jet lag, la stanchezza, il viaggio anche verso Napoli era difficile fare. Qua giochiamo domenica, quindi tranquilli. Il punto è, Allegri ha avuto a disposizione la squadra per tot giorni, in quei tot giorni avrà voluto allenare i giocatori ed è logico che si dia un occhio di riguardo preferenziale a quelli che hanno svolto la settimana completa di allenamenti. Quindi occhio che quelli che arrivano in extremis tipo McKennie, secondo me, arrivano un pelo dopo nelle gerarchie di titolarità per domenica. Rabiot è a posto, Locatelli non ci sarà, è squalificato, Zaccaria c'è, ieri l'ha detto anche lui, io sono anche eventualmente pronto per giocare, dipende da quello che vuole fare l'allenatore. Quindi attenzione perché a centrocampo ne abbiamo sì cinque, che sono quattro per la squalifica di Locatelli e uno è McKennie che arriva veramente all'ultimo, dato che starà arrivando in queste ore, non so quanto ci vorrà per il rientro a Torino, però bene o male il centrocampo quello è secondo me, ecco l'abbiamo già messo. Poi è ovvio che ci saranno portati in panchina, se stanno bene, saranno giocatori a disposizione come subentrati, vediamo. Vlaovic, Morata, Dybala, Ken, Bernardeschi, Caio e Chiesa, questi sono gli attaccanti. Allora l'unico convocato in nazionale qua è Dybala, che ha giocato pochissimo, tra l'altro, si è fatto un sacco di ore di volo per giocare pochissimo. Vlaovic, anche qua Vlaovic l'ha detto, se il mister vuole io ci sono. Morata, è lì, Ken, è lì, Bernardeschi non ci sarà per via di un affaticamento, Caio, c'è, Chiesa, vabbè, Chiesa lo sappiamo. E allora, Chiesa rotto, Berna non c'è, è che Krusevski l'abbiamo venduto, in senza esserci pochi esterni, e se vogliamo davvero fare 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, è un po' difficile, anche perché fino adesso abbiamo utilizzato McKennie in quella posizione ibrida di mezzo esterno, e anche lui ha dei problemi, quindi capite bene che iniziare a fare la formazione adesso diventa un po' così. E allora, come la facciamo sta formazione? Tenendo conto che non abbiamo tutti i giocatori a disposizione, alcuni sono acciaccati, alcuni rientrano all'ultimo, alcuni non stanno benissimo, fatemi sapere un po' la vostra opinione, io ve la metto anche giù, secondo me domani, domani, domenica, Allegri proverà una sorta di 4-3-3, che è il seguente, Chiesa ne importa, Pellegrini a sinistra, De Sciglio a destra, Delite Bonucci, come vi dicevo prima se non c'è Bonucci, c'è Chiellini, Artur Zaccaria e Rabiot a centrocampo, Morata Vlaovic e Quadrado in attacco, e voi mi direte, sì, però mi è appena detto che Quadrado, sì, lo so, però non è che possiamo fare una formazione con solo quelli che erano, e quindi penso che se debba sceglierne uno, Allegri andrà a scegliere Quadrado, che può mettere in quella posizione lì, per inserire poi eventualmente Di Bala a partita in corso, proprio perché Di Bala, Quadrado, McKennie sono quei giocatori, c'erano anche Bentancur che ora non c'è più, Alexandro che però c'ha il Covid, sono quei tre giocatori su cui bisogna stare un po' più cauti, quindi secondo me questa sarà la formazione che utilizzerà Allegri contro il Verona, la prima di Vlaovic e Zaccaria, ecco io sarei curioso di vederli già all'opera, ma anche per necessità, a meno che non decida di fare Ken al posto di Vlaovic, Zaccaria penso proprio che debba giocare, proprio perché a centrocampo siamo tirati, però secondo me sarà questa, bene o male la formazione di partenza, qualcuno ieri in tutte le formazioni, tutti i moduli, i modi di giocare di Allegri mi ha detto però Luca, occhio che la Juve di Allegri deve difendere con il 4-4-2, l'abbiamo visto, sono d'accordo perché è lì, l'impronta difensiva bene o male rimarrà, e infatti eccoci qua, questo è lo schieramento con gli stessi undici che vi ho messo adesso, in difesa 4-4-2, famoso centrocampo storto, Corrabiù che si allarga, va a fare una sorta di finto esterno, ma nella fase di non possesso palla non me ne frega niente di come sono posizionati, l'importante è dare copertura, compattezza, l'importante è essere chiusi, belli, belli stretti, per cercare di non subire le giocate degli avversari, poi quando si attacca ovviamente i giocatori devono andare nelle zone più di competenza, dove si sentano più a loro agio, e questa è la grande differenza tra fasi di non possesso e di Allegri, che è il non possesso due linee da 4, io addirittura a Morata ve lo metto un po' più indietro perché solitamente c'è un attaccante che va su un centrocampista, va su un portatore di palla, quello che va un po' più in pressing, e uno che rimane un pelo leggermente più alto, non essendoci Di Bala domani, non essendoci Kuluseschi perché non c'è più, penso che lo farà a Morata, e questa dovrebbe essere la disposizione in fase di non possesso palla. E quindi, quello che avevo da dirvi ve l'ho detto, se ci saranno altre novità ci sentiamo oggi pomeriggio, se non ci saranno ci sentiamo domani direttamente con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Un abbraccio da un biondo.